Musica Ciao a tutti ragazzi sono Luke e benvenuti in questo video che sono in compagnia con With108 Ciao ragazzi O in compagnia di O con Uguale Ragazzi siamo qui a fare questo video sul torneo di League of Legends Per chi è interessato a questo evento che staremo per fare in questi giorni E per il momento è tutto pronto Tutto pronto nel senso che stiamo con questo video Diamo inizio alle iscrizioni E Quit vi spiega più o meno velocemente come funziona Allora il torneo sarà un torneo da 32 squadre Sarà composto da mesh ad eliminazione diretta Una partita secca Quindi ci saranno 16 partite iniziali Poi 8 Poi 4 Etc Tutte trasmesse da noi in live Assolutamente Tutte in streaming Con io che faccio il commento tecnico E Luke che fa il commento pirla Ok E niente E poi il match finale sarà una best of three Ovvero al meglio dei tre Per chi non mastica bene l'inglesico Come direbbe il nostro amico Luke Bene E tutto qua I premi saranno una figata Vi lascio dire al Luke Però saranno veramente una roba figa Prima di avere i premi ragazzi vi dico una cosa Allora non c'è limite di età Non c'è limite di livello Unico limite che chiediamo Che non chiediamo noi ma chiede League of Legends Ossia il gioco È di avere nell'inventario almeno 16 champion Perché se no non si possono effettuare le ranked Ed è una cosa tecnica di lol non nostra Se no non si può entrare nella stanza Per cui ricordatevi minimo 16 champion Per chi non li ha Ragazzi vedete voi Acquistateli al volo Quelli là che costano pochissimo Vedete voi Esatto Il motivo comunque è abbastanza semplice di questo Ovvero che League of Legends impone 6 ban In ogni match ranked Quindi sono già 6 champions che non si possono utilizzare Più il fatto che voi potete usare Solo una persona può usare un champion Quindi le altre 9 persone potrebbero piccare Gli altri 9 champions Se voi non avete champions siete un po' nella cacca Per un totale di 16 Bene poi prima di arrivare ancora i premi Volevo dirvi ragazzi Questo qua è il link del sito Dovete iscrivervi O perlomeno Ah ok Non accettiamo persone singole Mi ci dispiace ragazzi A meno per questo torneo Poi ne faremo altri Ne stiamo già organizzando altri Dove quelli singoli Effettueremo noi dei cosi a sorteggio Per fare nuovi team Per il momento accettiamo solamente team Di 5 giocatori Con un massimo di 2 riserve Attenzione C'è scritto Quando accelete al sito Andate subito nel regolamento E leggetevelo tutto Perché? Perché nel regolamento C'è scritto chiaramente Che sono 5 persone per team Più 2 riserve Ma le 2 riserve Non entrano Non rientrano nel premio Per cui ragazzi lo so Non è colpa nostra Purtro che altro Il team di LOL È composto da 5 persone Per cui noi dovremmo già dare 10 premi 5 al primo E 5 alla seconda squadra E non siamo i ricchi d'Italia E grazie a Fast2Play Che è come nostro sponsor Ossia Direttore di questo regolamento Di questo torneo Loro danno i premi E i premi sono Alla prima squadra classificata Ossia i primi 5 giocatori Che vincono il torneo Vanno 5 giochi In omaggio Per cui a scelta E ascoltate bene ragazzi Non è che noi vi diamo 2-3 giochi Voi scegliete fra questi 2-3 No Un gioco a testa Di tutto il Come si dice Tutto il Tutto Tutto ciò che c'è dentro Fast2Play Non lo so Qualsiasi gioco Un gioco appena uscito O magari anche un gioco da ordinare Questo non lo so Comunque sia Un gioco a testa A scelta Di qualsiasi gioco Ci sia all'interno di Fast2Play Che ricordiamo È un sito Che da Vende Che Di videogame Poi la seconda classificata Invece Sempre un gioco a testa A scelta Ma non di tutto Il repertorio di Fast2Play Ma solamente Di un nostro coupon Un coupon di Fast2Play Non lo so Vi metterà 3-4-5 giochi E voi dovete sceglierne Solamente uno A testa E un'altra cosa Oltre a ricevere Sia per la prima squadra Che per la seconda squadra Un sconto in più Per un ennesimo gioco Non lo so Facendo esempio Vi comprate Call of Duty In omaggio E poi volete acquistare Un altro gioco Avrete una percentuale Di sconto in più Su quel gioco Parlando di sconti Comunque sia Un piccolo sconto Lo ricevono Tutti quanti I partecipanti I partecipanti del torneo Nel senso Sono 32 squadre Ricordiamo Noi apriamo oggi Le iscrizioni Al raggiungimento Di 32 team Diamo Stoppiamo le iscrizioni Per cui se uno di voi Si sta iscrivendo A questo torneo E non Non vi fa iscrivere Ancora che questa persona Si è iscritto Riceverà un'email Con l'iscrizione Logicamente Più un codice Un codice Che questa persona Può dare A tutti i suoi membri E tramite questo codice Di fast to play Avrete già Uno sconto Del 7% Su qualsiasi cosa Di fast to play Su qualsiasi key Eccetera Giusto Esattamente Per cui già Un piccolo omaggio All'ingresso Di questo torneo Valido per tutti Oltre ai premi Poi finali Per cui io credo Di aver detto tutto Ho dimenticato qualcosa Anche secondo me Abbiamo detto tutto Per il momento Poi parleremo meglio Di come verranno Settati i match Come verranno Decisi orari Eccetera eccetera Comunque sia No 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 scusa Mi vedo Comunque sia Su questo sito Basta anche cliccare Su calendario E ci sarà il calendario Di tutti i match Esatto E ragazzi È un torneo Creato al volo Volante Velocemente Per cui È una cosa in beta Per cui lasciate stare Le gaffe Le fail Che faremo Però È un primo torneo Poi in base a questo Ne faremo tanti altri Se questo va bene È bene Se questo va male Ci abbiamo provate Esatto Quindi iscrivetevi In tanti Questo perché Facendo vedere Che c'è tanta richiesta Noi potremmo organizzare Tanti altri Tornei di questo genere E quindi Potremmo farvi arrivare Tanti altri premi E farvi divertire Anche perché Se posso dirlo Stiamo ricevendo Richieste da tanti altri sponsor Tanti altri siti Tante altre cose Che non si tratta solo di videogame Ma anche Non lo so Di hardware Del pc E tante altre cose Ragazzi Non le abbiamo Non le abbiamo incluse In questo torneo Appunto perché è un torneo Prova Un torneo Per lanciare Questo inizio Se dovessimo Effettuare altri tornei Allora Chiameremo in ballo Anche tutti gli altri sponsor Che ci hanno contattato O ci contatteranno Comunque sia Non lo so Buttiamoci su questo Ragazzi Buon divertimento a tutti Iscrivetevi in tanti Come ha detto Quit Ricordatevi Al raggiungimento Di 32 squadre Noi stopperemo E potete già iscrivervi Da adesso A fine di questo video Già sono aperte le iscrizioni Buon gioco a tutti Come si dice GG Giusto Quit GLHF Scusate Ragazzi Noi invece Ci rivediamo Tutti quanti insieme Con me Quit108 In live Sul mio secondo canale Vi manderò feed Vi farò un video Quando sarà Per la prima partita Di questo torneo E Che dire Da Luke Quit è tutto Ciao a tutti